Musica Raggiunto l'accordo con Roma sul patto finanziario, Fedriga, ospite dell'agenda, annuncia domani la firma, il Friuli Venezia Giulia risparma al 30%. Anche a Udine domani la protesta degli studenti per le modifiche all'esame di maturità, corteo in mattinata lungo le vie del centro. La polizia di Pordanone ha sgominato una banda di albanesi, autori di un centinaio di colpi nel nord Italia, nel covo armi e refurtiva milionaria. Immondizie abbandonate, cestini pieni, il parco Moretti perde il suo appil, Udinese per la vita chiede al comune una pulizia sistematica. Il brasiliano ha alternato un lavoro con il gruppo e uno a parte, si rivede anche Badu. Buonasera dalla redazione di Udinews e bentrovati a questa edizione serale del nostro Tg, assieme a me in studio questa sera Nicola Angeli. Buonasera Nicola. Buonasera Angela. Cedo subito a te la parola per un'ultima ora, un aggiornamento di cronaca proprio dalla città. Sì, ci spostiamo in Viale Venezia, Angela, perché poco dopo le 18, all'incrocio con via Mazzucato, nella zona all'altezza di San Rocco per intenderci, c'è stato un incidente che ha coinvolto, vi raccontiamo quello che sappiamo per il momento, perché la situazione è in evoluzione, ha coinvolto tre veicoli, ci sono dei feriti, dovrebbero essere tre persone in questo momento, sul posto polizia locale, vigili del fuoco e ovviamente sanitari del 118. Nelle prossime edizioni del nostro telegiornale vi daremo maggiori aggiornamenti su questo episodio che sta paralizzando il traffico in quella zona della città, che come sapete è molto frequentata, in particolare in queste ore di uscita dal capoluogo. Da un'ultimissima di cronaca alla politica, lo avete sentito nei nostri titoli, il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto l'accordo con lo Stato per quanto riguarda la compartecipazione da parte del nostro Friuli Venezia Giulia al rissanamento della finanza pubblica. Il governatore Fedriga, ospite dell'agenda, ha annunciato la firma. Allora andiamo a sentire proprio un estratto dell'intervento di Fedriga all'agenda che poi potrete vedere interamente domani sera. Andiamo a sentire le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia. Che più risorse si danno a Roma, meno servizi si garantiscono nel territorio. La specialità del Friuli Venezia Giulia, a differenza delle altre specialità, quindi quella di Sicilia, Valle d'Ostra, Trentino, Alto Adige e Sardegna, è l'ultima delle speciali. E quindi, a differenza degli altri che sono state date, sono state lasciate le risorse. E dopo si è deciso quali sono i compiti che dovevano svolgere, quindi è chiaro che partivano da un termine di vantaggio, perché intanto c'erano i soldi, poi si decide cosa svolgere. Da noi invece versa, la nostra specialità da cosa nasce? Nasce da dire, benissimo, Friuli Venezia Giulia svolge dei servizi in sostituzione dello Stato, ti riconosciamo una parte dell'imposta che vengono pagate sul territorio per erogare quei servizi al posto appunto dello Stato. Quindi una situazione molto diversa. Ebbene, questa situazione è molto diversa, voi pensate che rispetto al bilancio proprio della regione Friuli Venezia Giulia. Nel 2018 c'è l'anno del patto, per capirci, Paduan Serracchiani, dove io ricordo i festeggiamenti di giubilo... Non aveva portato a casa 120 milioni. No, non ho capito, ma dipende la base di partenza da dove parti. Se io pago un miliardo e porto a casa 120 milioni, una cosa. Se io pago 500 milioni e porto a casa 50 mila euro, voi capite che vale molto di più. Ci abbiamo guadagnato, ci abbiamo perso. Guardi, io ho fatto una cosa... Abbiamo ipotecato il futuro, abbiamo più soldi in tasca, costerà di meno il ticket. Cosa è successo? No, io guardi, io ho fatto quegli 834 milioni. Da come sono calcolato? Io ho fatto, spero di aver fatto un calcolo molto onesto. Io ho preso cosa ha fatto la precedente giunta ai primi tre anni e quanti soldi abbiamo dato allo Stato in quei primi tre anni. Ho detto quanto li daremo nei miei primi tre anni. Per far capire il paragone ai cittadini come stiamo governando legittimamente. Io ho fatto semplicemente una somma algebrica e una sottrazione e questo viene che noi paghiamo meno 834 milioni. Quindi soldi che restano qui. Che rimangono qua per influenza Giulia. E da Roma arriveranno nuovi fondi per il ristoro dei danni causati dalle recenti ondate di maltempo. Nicola. Sì, dopo le ricognizioni della protezione civile, Angela, sono stati assegnati ulteriori 95,7 milioni che vanno a sanare le situazioni vissute dalle regioni che a partire dal 2 ottobre 2018 hanno vissuto il maltempo. Le regioni sono Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano. La delibera è stata adottata questa mattina dal Consiglio dei Ministri. Al Friuli Venezia Giulia arriva ben un milione e mezzo di euro, quasi un milione e sei. Mentre le altre regioni, vi faccio un po' cito così a caso, alla Calabria 14 milioni, al Lazio 10 milioni, alla Lombardia 3, alla Toscana 8, alla provincia di Trento 9 milioni e 200 mila euro e al Veneto 13 milioni. Siamo stati un po' sfortunati questo giro. In questo secondo riparto. Adesso andiamo subito dalla nostra Luciana Idelfonso in collegamento con noi, dalla zona del Centro Studi di Udine e da dove domani mattina partirà la protesta degli studenti, una protesta che interesserà tutta Italia, anche la nostra città. Buonasera Luciana. Sì, buonasera Angela, buonasera Nicola. Hai detto bene, ci troviamo proprio nel cuore del Centro Studi, in via Leonardo da Vinci. Siamo in compagnia di due giovani studenti del Marinelli ed in particolare con David Galimi, che ringrazio per essere con noi, e Francesco Massi. Francesco, allora, ci racconti perché questa protesta, al centro del vostro no, c'è l'esame di maturità? Chiaramente sono tre i motivi principali. Prima di tutto ci sono i tagli da 3,9 miliardi, che appunto sono un taglio irrazionale al futuro degli studenti ed è tutto irrazionale, appunto. Poi abbiamo lo stravolgimento completo delle prove. Abbiamo la seconda prova, che i licei, chiaramente, sono gravemente penalizzati per la prova multidisciplinare. Abbiamo, per esempio, per i licei scientifici, sia la prova di fisica che di matematica allo stesso tempo ed è una cosa per il quale nessun professore sa nemmeno come prepararci, nessun professore sa nemmeno come si svolgerà all'inizio. Di infine abbiamo, appunto, la terza prova. Non c'è più la terza prova, però abbiamo un orale. Questo orale che, appunto, richiede una multidisciplinarità e un pensiero talmente tanto veloce perché avverrà una istrazione di tre buste. All'interno delle tre buste ci sarà un argomento che dovrà essere collegato a tutti i docenti che sono presenti nell'aula. E quindi questo proprio ha fatto impazzire gli studenti. Ma la cosa che proprio ha scatenato la manifestazione è proprio lo scarsissimo preavviso, la scarsissima organizzazione del MIUR, che questo ha davvero smosso gli animi e ha costretto tutti a prendere posizione contro un tale scandalo avvenuto con tale velocità. Quando siete stati avvisati? Siamo stati avvisati cinque mesi fa del stravolgimento della prova orale. Chiaramente era molto prima, c'erano dei sentori per il cambiamento della prova multidisciplinare della seconda prova. Però sì, comunque è stato davvero uno shock per tutti gli studenti, ragazzi che si mettevano a gridare, appunto, perché si sta giocando con la vita e il futuro degli studenti e questo non può avvenire così facilmente. Potete capire che c'è quindi del panico soprattutto tra gli studenti ma anche davanti agli insegnanti che non sono ancora pronti ad affrontare questo nuovo tipo di esame di maturità proprio per questo domani gli studenti scenderanno in piazza e lo faranno qui, Davide, a partire dalle 8.30? Sì, assolutamente sì. Ancora un rebus sulla partecipazione degli studenti nel senso che il numero esatto non ce l'abbiamo. Però vogliamo mettere in chiaro che veramente c'è stata una grande sinergia con tutti i rappresentanti dell'istituto delle varie scuole della provincia di Udine che ci hanno veramente molto sostenuto per questa manifestazione. La manifestazione inizierà alle 8.30 davanti all'istituto Zanon di Udine e finirà davanti in piazza Libertà. Non abbiamo ancora orari precisi per quanto riguarda questo. Vorrei sottolineare però che dietro c'è stata un'organizzazione con la questura di Udine e per questo ringraziamo caldamente il vicequestore, il dottor Deana ed è stata un'organizzazione che abbiamo posto dietro da una settimana in particolare che riguarda appunto tutti gli studenti. Giustamente bisogna ricordare che la manifestazione non è a sfondo partitico e soprattutto pacifica. È un'occasione in cui tutti gli studenti dopo ben dieci anni dall'ultima manifestazione per la riforma Lora Gelmini del Berlusconi IV è una possibilità per tutti gli studenti di ritrovarsi uniti per un solo ideale per un solo motivo di protesta che ovviamente richiede prima di tutto la chiarezza per quanto riguarda l'esame di maturità di quest'anno perché questa è la prima cosa che chiediamo perché tuttora, come ha detto bene Francesco non si hanno notizie ben certe su questo e secondo luogo ovviamente non possiamo pensare di poter cambiare la riforma che è già stata emanata per giugno però se abbiamo una speranza una speranza è quella di cambiare per i prossimi anni quindi sarebbe veramente assurdo che anche gli studenti 2001, 2002 e via dicendo non prendessero parte della manifestazione in quanto considerata non cosa loro una questione che riguarda tutti gli studenti dalla prima alla quinta e allora è un comizio che sarà comunque pacifico che invaderà le strade cittadine per cercare di far sentire la voce degli studenti e avere soprattutto delle risposte nel più breve tempo possibile io ringrazio i miei due ospiti che lascio liberi per altri impegni e vi restituisco la linea a voi grazie Luciano una manifestazione che sicuramente creerà anche qualche problema alla circolazione visto che attraverserà anche il centro di Udine proprio dalla zona del centro studi verso Piazza Libertà a proposito di scioperi ce n'è all'orizzonte un altro sempre per quanto riguarda la scuola si ci raccontava Luciano e Delfonso nel collegamento di poco fa che anche i professori sono spaventati da questo nuovo metodo che verrà usato quest'anno e per il 27 febbraio il prossimo 27 febbraio è stato proclamato uno sciopero anche dal personale docente e dal personale ATA lo leggiamo lo apprendiamo direttamente dal sito del MIUR del Ministero dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca si comunica che il sindacato Unicobas Scuola e Università ha proclamato lo sciopero per l'intera giornata per l'università e per la scuola per tutto il personale docente ATA di ruolo e non per mercoledì 27 febbraio 2019 esentando dallo stesso sciopero i lavoratori di SGA facente funzione della soledetta azione di sciopero con le stesse modalità aderite all'associazione ANIEF questo è il comunicato ufficiale sul sito del Ministero Grazie Nicola adesso noi andiamo avanti con la cronaca perché la polizia di Pordenone ha smantellato una banda dedita a furti in villa e nelle abitazioni del nord Italia una banda composta da tre cittadini albanesi nel covo della banda sono state trovate anche armi da fuoco e il bottino di una serie di furti un bottino milionario sentiamo per i particolari il servizio di Daniele Boltin si è svolta all'alba di oggi un'operazione della polizia coordinata dalla questura di Pordenone che ha portato all'arresto di una banda di criminali albanesi considerata responsabile di 100 furti in abitazioni a Sacile Pordenone e in provincia di Treviso in manetta tra criminali con precedenti specifici che con le loro attività hanno sottratto una refurtiva per un valore stimato di un milione di euro tra oro diamanti orologi e denaro la banda nei suoi colpi ha rubato anche tre fucili e tre pistole due delle quali mancano all'appello le indagini su questi criminali sono partite dopo il furto in un appartamento in via Colombo a Pordenone lo scorso 27 dicembre qui era stata rubata una cassa blindata con 40.000 euro e alcune armi e dagli stessi ladri ci sono tre cittadini appunto albanesi due dei quali già con precedenti specifici che avevano individuato la loro base logistica nel Trevigiano a Castelfranco Veneto in un appartamento e quindi poi all'imbrunire si muovevano con questi raid appunto reati predatori in danno di ville o anche di abitazioni i provvedimenti emessi poi dalla ripeto dalla procura richieste da Procura Repubblica emessi dal GIP proprio contestano esattamente 33 fatti reato 33 furti dall'inizio di novembre fino al 31 di gennaio e soprattutto ripeto oltre a interrompere questa serialità criminale il fatto stesso che in un secondo furto a Sacigia il 21 gennaio era stato trasportato un altro armadio blindato oltre che con gioielli con tanti con altre due pistole dal contesto investigativo è anche emesso come questi soggetti si fossero anche autodeterminati a utilizzare le armi nel caso in cui ce ne fosse stato bisogno contro le vittime o contro chiunque si fosse dinanzi a loro interposto e quindi l'accelerazione alle indagini fino al blitz per l'appunto di questa mattina che ci ha consentito quindi di arrestarli abbiamo recuperato anche circa 80-90 mila euro di dire furtiva si è anche evidenziata una pista probabilmente una traccia della diciamo della ricettazione dell'autoriciclaggio dei beni e dei preziosi verso appunto il paese di origine verso l'Albania le altre notizie di cronaca di oggi nelle nostre flash news curate da Alice Mattelloni arrestati tra l'Inghilterra e l'Ungheria due albanesi di 25 e 32 anni condannati in primo grado per rapina porto abusivo d'armi lesioni personali estorsione reati predatori uno dei due nell'aprile 2011 rapinò un supermercato di via Mantova a Udine e nel 2012 un negozio di articoli per la casa di piazza 20 settembre minacciando con un taglierino la cassiera per i due avviate le procedure per l'estradizione da qualche giorno non rispondeva al telefono e al campanello nonostante i ripetuti tentativi una novantenne dito al mezzo che vive da sola era infatti caduta e da due giorni si trascinava cercando di chiedere aiuto l'hanno trovata così disidratata e confusa gli agenti della polizia locale dell'unione della carne a venerdì pomeriggio allertati dai vicini di casa preoccupati gli operatori hanno scavalcato la recinzione posta sul retro dell'appartamento situato al piano terra e forzato la porta finestra la donna è stata trasportata dal 118 all'ospedale dito al mezzo per le cure del caso la polizia di frontiera di Gorizia ha scoperto al casello di Villesse un 34enne rumeno che deve scontare 4 mesi e 20 giorni di carcere per uso di un documento falso l'uomo assieme ad altri connazionali era a bordo di un furgone con targa rumena diretto in Slovenia il latitante è stato accompagnato alla casa circondariale di via Barzellini stava accompagnando in Italia a bordo di un'auto due migranti irregolari provenienti dal Kosovo per questo un croato di 31 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di frontiera a Trieste durante i controlli in contrasto alla criminalità trasfrontaliera per l'ipotesi di reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina ed è stato portato nel carcere di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria i due cittadini kosovari invece sono stati denunciati per violazione della normativa sull'immigrazione prima di essere riammessi in Slovenia un altro incendio divampato a Gerizzole questa notte attorno alle 4 nello stesso appartamento di ieri che aveva preso fuoco verso le 13 a causa di un bambino che giocando con l'accendino aveva bruciato la coperta del letto in cui in quel momento dormiva la mamma questa notte invece le fiamme hanno colto gli altri inquilini del caseggiato Ather nel sonno che si sono svegliati a causa del fumo la gente spaventata è scesa in strada e il nuovo rogo avrebbe avuto origine da un focolaio in cucina e spostiamoci adesso al parco Moretti di nuovo in preda all'incuria e al degrado complice la scarsa educazione di alcuni dei suoi fruttori l'area verde è piena di cartacce lattine segni di bivacchi e rifiuti abbandonati sentiamo Francesca Santoro il parco Moretti fa parlare ancora di sé per il degrado e la sporcizia immondizie abbandonate e cestini non svuotati sono la prova dell'incuria in cui l'area verde è lasciata dal comune nonostante gli ingenti investimenti fatti negli anni da Udinese per la vita per rendere il parco un punto di ritrovo per le famiglie gli amanti della vita all'aria aperta e cittadini che desiderano rilassarsi purtroppo dobbiamo constatare che dopo diversi anni ci troviamo ancora a affrontare problemi di incuria questo in realtà è un gioiello in natura della città Udinese per la vita ha creduto molto perché negli anni abbiamo fatto delle donazioni proprio a favore del parco e nell'interesse della cittadinanza i cittadini che frequentano il parco segnalano queste tematiche di disagio e riteniamo opportuno che l'amministrazione se ne debba occupare ma con sistematicità in modo da evitare che si ripetano queste situazioni non è possibile che a fronte di ogni o successiva segnalazione si intervenga l'intervento deve essere preventivo dobbiamo conservare questo polmone nell'interesse di tutti quanti in particolare della società alla quale noi siamo particolarmente affezionati questa è un'area particolarmente importante qui giocava l'Udinese qui vorremmo ulteriormente procedere nella nostra campagna di donazioni ma se solo se chi deve fare il suo mestiere cioè chi deve controllare lo fa in termini sistematici preventivi sicuramente la scarsa educazione e la poca civiltà di più di qualche fruttore del parco non aiutano ma resta il fatto che da parte del comune c'è poca attenzione per la pulizia e la cura del verde si non è pulito no non so da cosa dipenda se dall'educazione della gente alle volte ci sono i cestini che debordano è una roba che fa paura e alle volte mi viene voglia di andare a prendere io a casa la scopa e pulire non so se arriviamo a questo e vedi operatori che puliscono comunque che lo tengono in ordine non l'ho visto mai va bene io passo così sì pur beh quando è sconcita rientro sempre a casa attraverso il parco però non ho mai visto gente che pulisca e l'anima di Udinese per la vita Giuliana Linda Pozzo ha scritto anche una lettera al sindaco di Udine Fontanini Nicola sì lettera che è stata pubblicata sul sito del Udinese Calcio questo pomeriggio andiamo a vedere che cosa è stato scritto e grazie signor sindaco ancora una volta la nostra città è balzata agli onori della cronaca per il degrado e l'incuria a cui vengono abbandonati luoghi che al contrario dovrebbero essere preservati da tutto ciò il parco Moretti è un fiore all'occhiello di Udine poche altre città possono vantare un'area di verde attrezzato a pochi passi dal centro eppure sembra che all'istituzione che le rappresenta non interessi l'articolo pubblicato in data odierna dal messaggero Veneto ripropone la questione della scarsa vigilanza e inadeguata manutenzione degli arredi la situazione documentata con foto raccapriccianti non può far altro che scoraggiare la cittadinanza dal frequentare il parco sporcizia e deterioramento degli arredi mettono a repentaglio la sicurezza dei frequentatori quei pochi che sono rimasti questa incresciosa situazione rendevani gli sforzi che sono stati compiuti negli anni per avvalire il parco e renderlo sempre più attrezzato e vivibile donazioni di identità importante sono state destinate da Udinese per la vita per l'acquisto di giochi attrezzi ginnici per corsi vita e in ultimo i campi gonfiabili di calcetto che risultano essere abbandonati e accatastati in un deposito per non parlare dei servizi igienici che a più riprese risultano inutilizzabili perché fuori servizio o sporchi siamo alle porte della primavera signor sindaco mi auguro che in breve tempo il parco venga restituito ad una condizione dignitosa per rispetto delle oltre 600 famiglie di potenziali fruttori che vorranno frequentarlo è un suo dovere garantire la sicurezza e la manutenzione dei luoghi pubblici ed è un suo dovere salvaguardare e trattare con rispetto le donazioni fatte da Udinese per la vita a beneficio della collettività cordiali saluti Giuliana Linda Pozzo cambiamo argomento adesso e spostiamoci a Carniacco dove oggi è stata posta la prima pietra del nuovo stabilimento produttivo delle acciaierie Bertoli Safau un impianto tecnologicamente avanzato che darà lavoro ad altre 150 persone sentiamo il servizio di Francesca Santoro l'ABS investe ancora sul territorio con l'avvio della costruzione di un nuovo impianto di laminazione tecnologicamente avanzato e sostenibile dal punto di vista ambientale il sito produttivo che sorgerà di fronte alla sede di Carniacco su una superficie di 150 mila metri quadrati costerà 200 milioni di euro che si aggiungono ai 360 già investiti negli ultimi 4 anni 150 posti di lavoro diretti che saranno creati a cui si aggiungeranno quelli dell'indotto è un completamento della nostra gamma produttiva siamo sempre nelle acciai speciali quindi alta qualità di acciai sostanzialmente ho detto un completamento perché andiamo a completare la gamma piccola quindi le dimensioni piccole acciai speciali applicazioni molto spinte nell'automotive e nella meccanica significa quindi un aumento della produzione e un miglioramento anche della qualità entrambe sia un miglioramento sia un aumento della qualità sia la possibilità di approcciare nuovi mercati ad alto valore aggiunto quindi per dare una maggior solidità per la nostra azienda e per il futuro oltre il 90% del semilavorato arriverà al nuovo impianto su rotaia anche se su questo fronte resta del lavoro da fare abbiamo bisogno di un parco ferroviario lì che deve essere concertato evidentemente con la Ziu che è ok molto collaborativa la Ziu deve essere concertata con le ferrovie dello Stato il parco qui per le ferrovie dello Stato da tre anni o quattro anni non è nelle loro priorità e quindi rimaniamo senza adesso bisognerà darsi da fare anche perché oggi potremmo farcela lo stesso con questo investimento ma se andiamo avanti col programma con il programma di metamorfosi dell'ABS per andare sui 3 miliardi di fatturato il tema diventa indispensabile lo vedremo nei prossimi mesi se ci fermiamo qua o se faremo lo step successivo quello che prevede investimenti in due fasi la prima fase da 600 milioni e la seconda fase di 400 450 milioni Nuovi voli in partenza dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari per l'estate destinazione Grecia ci racconta tutto Alice Mattelloni Nonostante si debba attendere ancora qualche mese per mettere in valigia costume e crema protettiva Trieste Airport si porta avanti ampliando i collegamenti che dalla nostra regione ci permettono di atterrare direttamente sotto all'ombrellone dopo il successo di Cefalonia nell'estate scorsa riconfermata per questo 2019 da giugno per la Grecia ci sarà una destinazione in più l'isola greca di Lefkada un'ottima partnership con il tour operator sloveno Palma Viaggi che quest'oggi ha presentato la novità tra cui le tante offerte ricettive a disposizione a seconda dei target dagli hotel di lusso ai turistici fino agli appartamenti tutti selezionati dal preparato staff del tour operator nonché una nuova promozione tariffaria per poter lasciare la propria auto in tutta sicurezza partendo senza alcun pensiero un investimento che arricchisce ulteriormente il nostro network che dimostra che Trieste Airport si pone in maniera competitiva sul territorio ed esercita una sempre maggior capacità di attrazione per compagnie aeree ed operatori turistici commenta così il direttore commerciale di Trieste Airport Enzo Zangrilli ricordando che la compagna operante entrambi i voli sarà la Adria Airways e avranno cadenza settimanale ogni domenica dal 16 giugno al 22 settembre i clienti potranno ovviamente rivolgersi all'agenzia italiana e del territorio per selezionare la migliore opzione di viaggio tra quelle proposte non resta dunque che controllare l'agenda e iniziare a pensare a cosa mettere in valigia abbiamo parlato di aerei abbiamo visto anche le immagini dei treni che passano e fermano davanti all'aeroporto del Friuli Venezia Giulia treni sempre al centro del dibattito Nicola sì sì è proprio parliamo della linea Venezia-Trieste tra l'altro quella che ferma proprio al Trieste Airport che cosa succede che Mauro Bordin che è consigliere regionale di Palazzolo dello Stella vorrebbe che come accadeva fino al 2013 i treni fermassero di nuovo alla stazione di Palazzolo dello Stella per questo ha mosso diciamo la sua influenza politica coinvolto anche l'assessore all'infrastruttura Graziano Pizzimenti che ha dichiarato una sorta di disponibilità a discutere di questa cosa quindi nei prossimi mesi potremo vedere nelle novità un ritorno alle fermate dei treni a Palazzolo dello Stella come accadeva fino al 2013 quando la stazione è stata dismessa passando invece a questioni di carattere nazionale per quello che riguarda i treni dobbiamo sottolineare che alla Camera è stata approvata la mozione di Movimento 5 Stelle e Lega sulla TAV il testo passato a Montecitorio con 261 voti a favore e 136 contrari impegna il governo a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione nell'applicazione dell'accordo fra Italia e Francia quindi non si ferma la questione TAV ma si continua a discutere e se ne discuterà parecchio prossimamente e rimaniamo in ambito nazionale internazionale a questo punto andiamo a vedere nel prossimo servizio le principali notizie di cronaca dall'Italia e dal mondo le forze kurdo-siriane che circondano il campo degli ultimi irriducibili miliziani dell'ISIS sono pronte per l'ultimo attacco facendo prima uscire quanti più civili possibile dall'area nella pianura di Bagus tra il fiume Eufrate e il confine iracheno il pericolo di una Brexit senza accordo è molto serio e presente così il leader laborista Jeremy Corbyn dopo l'incontro con il capo negoziatore dell'Unione Michel Barnier e sulla possibilità di un secondo referendum aggiunge faremo una nuova mozione in Parlamento apriamo ora la pagina sportiva doppia seduta nel menù del giovedì per l'Udinese di Davide Nicola oltre al rientro nella truppa bianconera di Lasagna Mandragora Depol e Ziegela sui campi del Bruseschi si sono affacciati anche Sandro nella mattinata e Badu nel pomeriggio per il centrocampista brasiliano ex Genoa e vicino il ritorno in gruppo con la volontà di recuperarlo per la sfida interna contro il Bologna sentiamo Maurizio Ferrari dopo un allenamento di ripresa a ranghi decisamente ridotti Davide Nicola ha potuto ritrovare alcune pedine nel corso della doppia seduta infrasettimanale tenuta al centro sportivo Dino Bruseschi nella mattinata i giocatori di movimento a disposizione sul manto 3 erano ancora appena 9 ma nel campo 2 si sono successivamente affacciati anche Depol Mandragora e Lasagna poi aggregati definitivamente al gruppo nel pomeriggio insieme a Zieglar con loro nell'uscita delle 11 pure Sandro il centrocampista ex Genoa sta aumentando gradualmente i carichi di lavoro e rivederlo insieme ad alcuni compagni seppur per una sessione differenziata è il segnale della volontà dello staff atletico di farlo avvicinare quanto prima al ritorno a piena disposizione viste le numerose assenze del reparto mediano l'obiettivo primario di coloro che sono dediti al recupero degli infortunati è renderlo convocabile già a partire dalla sfida con il Bologna a 10 giorni di distanza dal nuovo duello salvezza la Dacia Arena continua dunque la gestione dei singoli nel pomeriggio personalizzato per Ocaca è uscito sia con scarpe da ginnastica sia con quelle con i tacchetti e lavoro sul campo 1 per un altro tassello del centrocampo Emanuel Badu il ganese è un lungo degente che passo dopo passo sta accorciando i tempi riprovando il feeling non solo sul piano fisico ma anche del controllo di palla se lo scopo della settimana di atipica sosta è quello di farsi trovare al meglio della forma per il duello del 3 marzo Nicola ha avuto anche la possibilità di imbastire qualche primo esperimento tattico per l'amichevole con l'NK Radomlie di sabato per questo il mister ha rinforzato i suoi effettivi con tre elementi della primavera non convocati per il duello giovanile con il Napoli e alcuni ragazzi dell'Under 17 svolgendo un primo test in famiglia dove ha ruotato gli stessi uomini che tra due giorni dovranno andare a disegnare l'undici sperimentale da opporre alla capolista del campionato cadetto sloveno e se la prima squadra dovrà attendere il 3 marzo per tornare in campo è fissato per domani alle 14 e 30 all'anticipo del ventesimo turno del campionato primavera 1 tra l'udinese di mister Stefano Daniel e il Napoli dell'ex Baronio una trasferta in cui i giovani bianconeri si giocheranno molto per le speranze di permanenza in categoria sentiamo come il tecnico friulano vuole approcciare al duello con i partenopei mister Stefano Daniel è terminata la rifinitura adesso il pensiero è tutto rivolto alla trasferta di Napoli è una partita veramente importante in chiave salvezza contro un'avversaria un po' più alla portata rispetto alle ultime affrontate nel calendario beh non direi il Napoli è una buona squadra l'ho vista in settimana credo che noi dobbiamo fare come abbiamo fatto con l'Atalanta e un pochino di più con l'Inter dobbiamo essere in gara sistematicamente dall'inizio alla fine della partita perché loro sono è vero hanno qualche punto in meno dell'Atalanta e dell'Inter ma sono in un'ottima sono un'ottima squadra e sinceramente noi anche abbiamo bisogno di punti per risalire un po' la classifica è stata una settimana un po' più corta del solito perché si gioca di venerdì i ragazzi sono tutti disponibili c'è qualcuno magari come i russi questa è una nota positiva che è andato in Under 18 è ritornato insomma è un po' last minute eh questo fa piacere a me ma credo fa piacere anche al ragazzo e alla società è tornato in nazionale che ci raggiunge direttamente a Napoli sperando che questa convocazione gli sia di aiuto emotivamente a lui e alla squadra per il resto tutti disponibili sì tutti disponibili non abbiamo nessuna defezione cerchiamo di andare giù con quella capacità mentale di volere a tutti i costi fare gara per poi raggiungere un risultato abbiamo sentito parlare di nazionale ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la gara che la nazionale italiana disputerà proprio alla Dacia Arena Nicola sì parte in qualche modo da Udine da Udine Parma al cammino della nazionale di Roberto Mancini per le qualifiche Euro 2020 il 23 marzo si gioca qui in città la Dacia Arena alle 20.45 dalle ore 10 di venerdì 22 febbraio inizierà la vendita dei biglietti per assistere all'incontro tutte le promozioni dedicate anche ai tifosi bianconeri che potranno acquistare i tagliandi presso i punti 20 l'italist ticket sono sui siti internet figici.it e ticketone.it andiamo a vedere un attimo qual è la fascia dei prezzi per i biglietti della partita vedete si va dai 55 euro della tribuna centrale ai 35 dei distinti e poi scendendo più in basso ai 10 euro delle curve quindi prezzi popolari per la gara del 23 marzo a Udine 5 euro anche per i bambini si ridotto sponsor qua bisogna entrare nel dettaglio però insomma anche alla peggio come si dice sono 10 euro in curva quindi dai si può una cifra alla portata dai siamo in chiusura del nostro TG Nicola torno da te per gli aggiornamenti di cronaca le ultime ore di cronaca avevamo aperto con l'incidente di Viale Venezia esatto per il momento siamo ancora in attesa di ulteriori particolari segnaliamo che questa mattina Cervignano invece è stato trovato morto a metà mattinata dai vigili del fuoco nella sua abitazione di Via Leopardi un 50 anni del posto il corpo è stato trovato diverso a terra e parrebbe che tutto fosse stato originato da un malore non è ancora chiaro da quanto il soggetto l'individuo avesse perso la vita a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco hanno spiegato dal comando provinciale di Udine è stata una donna un'infermiera che in questo periodo lo stava seguendo e che non era riuscita a mettersi in contatto con lui grazie grazie Nicola Angeli per questo ultimo aggiornamento di cronaca con il quale chiudiamo questa edizione serale del nostro TG Nicola grazie ancora grazie Angela buonasera anche a tutti voi che ci avete seguito ovviamente l'invito è quello di rimanere in nostra compagnia in compagnia di Udinews TV buonasera a tutti grazie a tutti i nostri